La giornata di oggi è dedicata a spiegare e dare un'informazione divulgativa su quelle che sono le soluzioni alle varie problematiche di calvizia e di caduta dei capelli, quindi spiegare le soluzioni farmacologiche, le soluzioni chirurgiche e quelle invece un pochino più estetiche come trattamenti tricologici ed epitesi, quindi sistemi di infoltimento non chirurgici. In accesso ai ragazzi Laboratories è un'azienda che ha due divisioni, una tricologica e l'altra sistemi di infoltimento non chirurgici, quindi all'interno di questa divisione c'è questa epitesi, il CNC, che è un sistema brevettato e riconosciuto dal Ministero della Salute come dispositivo medico, frutto di anni di ricerca e quindi attraverso una riproduzione fevele del cranio del paziente, si va a realizzare una seconda pelle su cui vengono rinestati capelli naturali vergine non processati che danno un'estrema naturalezza e un comfort, una funzionalità estrema. La protesi per sua natura viene applicata con degli adesivi medicali di grado medicale e tecnicamente potrebbe essere non rimossa, quindi da tutta la funzionalità si può fare il bagno, si possono fare attività sportive estreme. Per ragioni igieniche viene rimossa una volta al mese, quindi il cliente si reca presso uno dei nostri centri, viene fatta un'igienizzazione sia della protesi che del cuoio capelluto e poi la protesi viene riapplicata. Grazie a tutti! Grazie a tutti!